Potrebbe diventare il primo comune slot free d'Italia per volontà della gente, del popolo. Ad Anacapri il sindaco Francesco Cerrotta ha lanciato una vera e propria crociata contro le slot machine, le famigerate macchinette. I suoi concittadini sembrano essere tutti con lui. Ottima idea e penso che sia un'iniziativa molto valida. Io sono favorevole a togliere le slot machine. Col sindaco, al 100%, anzi 101%. L'amministrazione cittadina ha di fatti promosso un referendum per abolire videopoker e simili. Un iter burocratico non semplicissimo, ma che potrebbe liberare per sempre il comune più in alto dell'isola azzurra Capri da slot e videopoker. Questa battaglia nasce proprio sull'elucitazione dei miei concittadini e principalmente dagli attori di questa vicenda, proprio i giocatori, le famiglie. Perché chi incappa in questa vicenda, diciamo, ha pure una distruzione nell'ambito familiare. Noi riteniamo che non esiste una speculazione commerciale su questo aspetto, non esiste in nessun modo condividere, coniugare l'aspetto commerciale con la ludopatia. La battaglia durerà almeno un anno, Cavilli permettendo, ma il solo gesto del primo cittadino ha già fatto colpo nell'opinione pubblica. Tant'è vero che alcuni in città hanno già avviato le procedure per liberarsi delle slot machine dai locali. Abbiamo accolto l'invito del sindaco a togliere le macchinette perché c'è una problematica che si sta sempre più incicandendo sul paese. E quindi abbiamo ritenuto di dare la nostra collaborazione al sindaco e all'amministrazione comunale.